Le imprese italiane nel campo della ristorazione sono affette da nanismo imprenditoriale. Sono piccole, artigiane, a conduzione familiare e quindi spesso fragili. Pericolose, rischiano tantissimo e spesso non se ne rendono nemmeno conto. Quali sono le cause di questo nanismo imprenditoriale? Quali sono le soluzioni? Ne parliamo insieme in questa nuova puntata di Radio Ristorazione. Ciao, bentrovata e bentrovato in Radio Ristorazione, il podcast di Ristoratore Top dedicato al mondo della ristorazione. Qui, al microfono, c'è il tuo, il vostro, il nostro Lorenzo Ferrari, che come sempre sono io. La prima volta che ho incontrato il termine nanismo imprenditoriale era in un articolo che ho trovato online. Chi scriveva non ne parlava in riferimento alle imprese ristorative italiane, ma alla totalità delle imprese italiane. Quindi il tema del nanismo imprenditoriale non riguarda soltanto la ristorazione, anzi, riguarda l'Italia tutta. Sul nostro blog, dove trovi la trascrizione completa di questa puntata e anche di tutte le altre, ti lascio il rimando all'articolo di cui parlavo poco fa. Leggilo perché ti darà una visione a 360 gradi molto interessante sul tema nanismo imprenditoriale. All'interno di quell'articolo, di cui ti linko al blog e che avremo modo anche di snorciolare in questa puntata, viene citato un libro, tra i tanti, che ti consiglio di leggere. Quel libro si chiama Le basi morali di una società arretrata, ed è scritto da un autore che si chiama Banfield. È un libro tanto impietoso quanto anti-italiano. Lo definirei crudo e razionale. Non so perché nessuno ne parli, ma trovo che l'analisi condotta dall'autore all'interno di quel libro sia parecchio piena di bias e di semplificazioni. Al punto di risultare arida, incompleta. Tuttavia risulta davvero impossibile non immedesimarsi in gran parte delle situazioni che l'autore descrive. Non voglio rovinarti il piacere della lettura, quindi ti consiglio di approfondire l'argomento e di acquistare il libro e di leggerlo. Metto le mani avanti dicendo che quel libro ti farà parecchio male se, come me, ami l'Italia e gli italiani. Ma non divaghiamo e torniamo al tema di questa puntata. Il nanismo imprenditoriale. Che cosa intendo per nanismo imprenditoriale? Intendo principalmente la tendenza dell'italiano a fare imprese ristorative piccole, familiari e pertanto fragili. No, purtroppo piccolo non è sempre bello, anche se viene descritto come tale dalla maggior parte dei media, dei giornali e delle televisioni italiane. Certo, piccolo è romantico, è fiabesco, è facile da raccontare in termini giornalistici e in termini mediatici. Ma spesso e volentieri, dietro ad aziende piccole, a conduzione familiare, si nascondono delle storie davvero drammatiche e pieno di retroscena, tristi e anche, spesso e volentieri, pericolosi e inaspettati. Comunque sarebbe facile fermarsi alle parole che compongono il termine nanismo imprenditoriale per descrivere il significato e le conseguenze. Ma credo che il significato di questo termine vada davvero oltre alle parole che lo compongono e quindi anche noi in questo podcast andremo oltre. Nanismo imprenditoriale è infatti un concetto ampio, stratificato e sfaccettato. Io trovo che ci siano tre indizi di colpevolezza per quanto riguarda il nanismo imprenditoriale. Te li elencherò uno per uno, così potrai capire se anche tu e se anche la tua attività siete affetti da questa grave e sudola malattia. Indizio numero uno, pensare in piccolo. Ogni giorno della mia vita adulta, da dieci anni a questa parte, mi sono svegliato la mattina e fino alla sera ho parlato direttamente e indirettamente con decine e decine di ristoratori italiani. Basti pensare che passo la maggior parte del mio tempo libero sul nostro gruppo Facebook, Ristoratore Top il gruppo che trovi su Facebook, in cui ci sono più di 11.000 ristoratori italiani e passo tutto il giorno a discutere con loro di quelle che sono le problematiche ma anche le soluzioni del nostro settore. Credo di aver domandato ad ognuno di loro quella che reputa una domanda importantissima. Perché hai deciso, tra i tanti lavori possibili, di fare proprio il ristoratore? Le risposte sono, come potrai immaginare, tantissime e sfaccettate. Tuttavia, quelle che ho trovato più frequenti sono soltanto tre. E sono queste. Moltissimi mi dicono che si erano stancati di lavorare alle dipendenze di qualcuno e volevano aprire un locale per conto loro, per non dover prendere ordini da nessuno. Il classico caso del dipendente che diventa imprenditore perché è stanco di fare il dipendente. Altri mi rispondono che la cucina o la sala sono sempre state le loro passioni e che non avrebbero, anche volendo, potuto fare nient'altro nella vita. È il caso di quelli che sono nati per fare questo mestiere. Altri ancora mi dicono che non hanno mai avuto alternative, visto che i genitori facevano quel mestiere, i nonni altrettanto e le generazioni precedenti anche. Sono quelli che chiamo figli d'arte. Ora, tra tutte queste migliaia di domande che ho posto durante la mia carriera, non credo mi sia mai capitato, o meglio non ne ho memoria, di qualcuno che mi dicesse «Ho fatto il ristoratore e sto facendo il ristoratore perché volevo conquistare il mondo con i miei locali e con il mio marchio». Oppure non ho mai trovato nessuno che mi dicesse «Faccio il ristoratore perché voglio diventare il punto di riferimento per la ristorazione nella mia città o nella mia regione». E ancora, non ho mai sentito nessuno che mi dicesse «Voglio fare il ristoratore e faccio il ristoratore perché voglio cambiare il mondo con la mia idea di cucina e di ristorazione». Se queste risposte ci sono state, sono state così sporadiche e così rare da non ricordarmene. L'approccio non mi stupisce affatto perché è quello tipico italiano del testa bassa e lavorare, al quale chiunque di noi è abituato sin da piccolo. È l'esatto opposto dell'approccio americano, ad esempio, dove il fine ultimo di qualsiasi attività, dal meccanico alla palazzinaro al ristoratore, è conquistare il mondo e, se capita, se prende bene, anche la luna e anche l'universo tutto. In Italia, nella ristorazione in particolare, nessuno pensa in grande, tutti pensano in piccolo. Ce lo dobbiamo dire, abbiamo aspettative modeste, c'è poco da fare. Siamo tutti così impegnati a non pestare i piedi a nessuno, a non dare fastidio a nessuno e a non dare troppo nell'occhio, se no chissà che cosa penseranno i vicini di noi, che ci dimentichiamo di pensare in grande, di fantasticare e persino di sognare. Sono davvero pochi i ristoratori che pensano che ci si possa arricchire o avere successo con un ristorante in Italia oggi, nel 2022 e negli anni che verranno. Invece si può, invece si può fare e tanti lo stanno facendo. Molti dei nostri clienti, ad esempio, i ristoratori top, testimoniano questa cosa. Con un ristorante si può avere successo, anche senza che diventi una catena, e anche con un ristorante ci si può arricchire e si può raggiungere i risultati che ci si prefigge. Infatti c'è così poca concorrenza a riguardo, così poca concorrenza strutturata e valida, che chi vuole pensare in grande, che chi vuole diventare grande, trova di fatto la strada spianata davanti a sé e finisce per farcela. Il pensare in piccolo è parte del nostro DNA, ce l'abbiamo scritto nel nostro codice genetico. E credo che se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo che il nanismo imprenditoriale smetta di infettare le aziende ristorative italiane, noi dobbiamo cambiare anche questa mentalità. Ora, non sono tutti così, quindi non voglio generalizzare, ci sono persone che stanno già cambiando questa mentalità, anzi che l'hanno già cambiata, ci sono delle aziende della ristorazione che sono diventate grandi, ma purtroppo se andiamo a vedere la media italiana, non ci allontaniamo tanto da questo scenario che ti ho appena descritto. Comunque sia e comunque vada, il pensare in piccolo è un indizio fondamentale del nostro nanismo imprenditoriale e, se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo cambiare innanzitutto questa mentalità del pensare in piccolo. Dobbiamo iniziare a pensare in grande, dobbiamo iniziare a pensare che sia possibile diventare grandi nella ristorazione, dobbiamo iniziare e continuare a sognare. Indizio numero 2 L'assenza di una struttura Prova a pensarci, com'è composto l'organigramma di un ristorante medio in Italia. Senza andare tanto lontano, prova a pensare com'è composto il tuo di organigramma aziendale, se ne hai uno, ovviamente. È molto probabile che l'organigramma medio di un ristorante in Italia, e anche il tuo, sia composto a modo di piramide o triangolo, così composto. C'è un vertice, nel quale di solito c'è il titolare, ci sei tu, e magari qualche tuo familiare, tua moglie, i tuoi genitori, magari i tuoi figli, e direttamente la famiglia tutta, spesso e volentieri. Diciamo che è un vertice molto affollato. Il vertice è di solito in un'azienda normale e pensa, quindi si muove a livello strategico, direziona l'azienda, la conduce, la direziona appunto. Ma spesso, almeno in Italia, questo vertice è più impegnato a muovere le mani che gli ingrenaggi che ha nella sua testa. Sotto al vertice c'è una base che è composta da tutto il resto dei dipendenti. La base in un'azienda normale dovrebbe fare, e nella maggior parte delle aziende italiane, in effetti la base fa, muove le mani, produce, manda avanti l'azienda in termini operativi. Cosa manca tra il vertice e la base? Manca la struttura manageriale che si frappone appunto tra il titolare, tra la direzione dell'azienda e i dipendenti. Mancano cioè i manager, manca cioè il collante tra la direzione e la forza lavoro. Mancano quindi persone che decidano in autonomia al posto dei titolari. Nel mondo del ristoratore top, in una struttura normale, funziona così. Il vertice pensa, la struttura intermedia, cioè i manager, fanno fare, si occupano di far fare, e la base fa. Quindi il vertice pensa, i manager fanno fare, e la base fa, lavora. Ogni ruolo in questa trilogia ha pari dignità e pari importanza. Non è che perché il vertice pensa è migliore della base che si limita a fare. Non è affatto così. Ogni ruolo ha pari dignità e pari importanza. Perché se viene a meno uno di questi tre ruoli, tutta la piramide salta, tutta la struttura, collassa e cade. E la gerarchia, in termini di ruoli, è soltanto formale, perché serve per semplificare e per fare sì che tutto funzioni al meglio. Invece, purtroppo, nella stragrande maggioranza delle imprese ristorative in Italia, i ruoli sono confusi, sono disordinati, sono caotici, con il risultato che tutti fanno tutto e quindi nessuno si occupa di portare avanti l'azienda e di farla andare bene, di farla andare nella direzione corretta. La conseguenza è che tutte le decisioni vengono prese dai vertici aziendali, la famiglia, senza coinvolgere i sottoposti che subiscono passivamente le scelte. Alla lunga, questo meccanismo è destinato ad incepparsi, si inceppa sempre, perché è umanamente impossibile prendere tutte quelle decisioni senza sbagliare, e anzi, si sbaglia spesso, ma soprattutto perché è statisticamente probabile che prima o dopo arriverà la decisione presa di fretta, presa di impeto o con il solo scopo di non turbare lo status quo familiare che finirà per rompere l'equilibrio con i dipendenti. E lì iniziano i guai. L'assenza di strutture solide è il secondo indizio di nanismo imprenditoriale nella ristorazione. Forse è l'indizio più grave di tutti e quello che crea i maggiori problemi, perché senza strutture è impossibile diventare grandi, competitivi e quindi pericolosi per le aziende internazionali. Di solito mi sento rispondere che la straganza maggioranza dei manager non sono tali ma lo sono soltanto di facciata. Certo, è vero, alcuni manager non sono altro che degli scaldasedie, potrebbero essere tranquillamente sostituiti da un cuscino riscaldato, ma altri, quelli giusti, sono semplicemente imprescindibili. Sono quelli che davvero fanno la differenza e sono quelli che davvero ti permettono di fare l'accollante tra te e la base della piramide della tua azienda e quindi rimandarla avanti nel modo giusto. Che cosa fanno i manager in un luogo ideale e in un'azienda che funziona bene? Da te, che sei il titolare, assorbono quella che è la direzione dell'azienda. E se non sai di che cosa sto parlando, recupero la puntata sul settimo ingrediente del successo della ristorazione in questo podcast perché è importantissima e perché ti serve per capire tutto il resto della puntata. Ti dicevo, assorbono la direzione dell'azienda e si occupano di portarla avanti al posto tuo. I manager, come ti ho detto poco fa, fanno fare. All'occorrenza certo lavorano e lavorano forte perché sanno come si fa e sanno muovere anche le mani, ma il loro compito è fare sì che tutti lavorino bene e in modo efficace in azienda. Non esiste una grande azienda senza un comparto manageriale e il grande step che le aziende nel campo della ristorazione italiana devono fare nei prossimi anni è davvero quello di strutturarsi e di inserire dei manager in azienda. non fraintendermi non ce l'ho con la direzione familiare delle aziende italiane tutt'altro anzi io reputo la direzione familiare una grande forza e esistono aziende dalle dimensioni gigantesche che rimangono a conduzione familiare e che hanno un grande vantaggio competitivo rispetto a tutte quelle aziende che magari sono gestite dagli interessi degli investitori o sono delle aziende quotate in borsa che quindi fanno soltanto l'interesse degli azionisti. Io penso ogni tanto a Patè Philippe se sei appassionato di orologi o Bollanger se ti piace lo champagne sono due grandissime aziende a conduzione familiare che vanno davvero alla grande e che sono forse le ultime aziende nei loro rispettivi settori a conduzione familiare da sempre. Queste aziende però nonostante sia una conduzione familiare nessuna di loro prescinde da una struttura consolidata e forte. Anche queste aziende hanno dei manager nei ruoli chiave che si occupano di portare avanti l'azienda. La famiglia da sola non è così numerosa e non è così variegata in termini di competenze e skill da portare avanti l'azienda come si deve. Ti servono dei manager ti servono delle persone esterne alla tua famiglia che si occupino insieme a te di portare avanti il ristorante. Senza la struttura credimi sei zoppo e nei prossimi anni la tua grande sfida la sfida più grande sarà quella di strutturarti di portare avanti la tua idea di ristorazione senza essere sempre tu o la tua famiglia in prima linea ma lasciare spazio ad altre persone che possano portarla avanti per te e insieme a te. Indizio numero 3 Fatturati e volumi piccoli In altre parole le attività italiane di ristorazione non riescono ad acquisire un numero sufficiente di clienti da generare fatturati e volumi importanti. I clienti lo sai sono la linfa vitale di qualsiasi attività nel campo della ristorazione. Pertanto i clienti devono essere tanti devono essere copiosi e devono arrivare in abbondanza dentro le sale del tuo locale ma che dico in abbondanza devono essere sempre in esubero devono esserci più clienti di quanti ne puoi servire perché questo è molto semplice quando hai la sala piena di clienti e ci sono tanti clienti fuori dalla porta che spingono per entrare quando hai una lista contatti sempre in aumento quando hai platform che straripa di prenotazioni il telefono che squilla a tutti i minuti del giorno e della notte tutti gli altri problemi diventano piccoli tutti gli altri problemi si sgonfiano tutti gli altri problemi risultano minimi ma quando non ci sono clienti quando hai le sale vuote quando non fatturi abbastanza tutti gli altri problemi diventano grandi hai presente quei problemi che hai nascosto sotto il tappeto in tempi in cui il ristorante andava bene quando il ristorante va male e hai nascosto questi problemi sotto il tappeto e alzi il tappeto ci trovi dei mostri lì sotto e questi mostri fanno paura si ingigantiscono diventano enormi quando non ci sono clienti i clienti lo sai sono quelli che portano volumi e quindi fatturato il nanismo imprenditoriale nella ristorazione è anche figlio dei fatturati piccoli che mettono in serio pericolo la stabilità di un'azienda come la tua come si acquisiscono clienti te l'ho detto 100 milioni di volte i clienti si acquisiscono con il marketing il marketing non è visibilità non è fare le campagne su facebook non è fare i balletti su tiktok e non è fare le foto seminuda o seminudo su instagram in italia purtroppo nessuno fa marketing nel modo corretto basti pensare che praticamente nessuno ha un budget dedicato e destinato al marketing in modo stabile e duraturo tutti investono in forni in attrezzature in design in arredi in persone ma nessuno investe seriamente in marketing perché si pensa ancora che la pubblicità sia appannaggio soltanto di chi non lavora sia per i disperati con la sala vuota e sia per chi non lavora e quindi deve per forza di cose come ultima spiaggia dedicarsi alla pubblicità e al marketing invece è esattamente il contrario e quando lavori bene e quando hai budget e quando muovi fatturati e volumi importanti che sei forte che devi fare pubblicità per preservare gli sforzi fatti finora e quindi le tue quote di mercato invece in italia purtroppo tutti lavorano con il passaparola o poco più che è importantissimo lo sai anzi un cliente su due ti sceglie grazie al passaparola dati nel nostro osservatorio ristorazione quindi è importantissimo fondamentale ma sai meglio di me che il passaparola è lento se devi aprire un locale e devi lanciarlo con il passaparola ci possono volere anni se invece come ti ho detto il analismo imprenditoriale lo combatti anche con i clienti anche con i volumi devi per forza fare marketing per raggiungere in velocità quella massa critica di clienti che ti permette di lavorare e di lavorare forte il passaparola è la conseguenza di un marketing fatto come si deve non è ciò che lo precede il passaparola è l'effetto di un marketing fatto bene non la causa non confondere causa ed effetto quindi la conseguenza visto che in Italia tutti si muovono con il passaparola è che tutte le attività di ristorazione sono lente nel farsi una clientela quindi nello scalare e nel diventare grandi poi certo arriva anche un tema di fatturato sano e non sporco perché non devi soltanto lavorare bene e generare dei volumi ma devi anche generare delle marginalità e quindi degli utili ma prima di ogni altra cosa prima della marginalità prima dell'utile c'è il fatturato c'è la sala piena di clienti e ci sono tanti volumi e tanti volumi importanti un'azienda piccola che lavora poco magari a conduzione familiare che campa con il nero e che campa di sotterfugi è un'attività che crolla al primo colpo di vento o la prima scossa di terremoto costruita con me su base fragili e fondamenta di sabbia al contrario un'azienda grande e strutturata che fattura tanto che fattura bene con una struttura manageriale con dei volumi di clienti importanti è immune alle intemperie anche le più devastanti pensa ad esempio alla recente pandemia chi pensi che chiuderà in questi anni guardavo i dati recentemente nel 2021 li condivideremo presto nella nuova edizione del rapporto osservatorio ristorazione ci siamo resi conto che il 2021 è stato il primo anno da 10 a questa parte in cui le aziende di ristorazione sono diminuite le aziende di ristorazione iniziano a chiudere nel 2021 hanno iniziato a chiudere in questi anni chi pensi che abbia chiuso le aziende grandi e strutturate o quelle piccole e a conduzione artigianale chi è che ha fondi per sopravvivere a una pandemia così devastante che va avanti da due anni chi ha le banche a dar credito dalla loro parte chi può fare la voce grossa con i fornitori con i dipendenti e con i creditori pensi che siano le aziende piccole e a conduzione artigianale o pensi che siano le aziende grandi e strutturate che magari hanno una struttura dedicata al recupero crediti o perché no a fare la voce grossa con i fornitori con le banche e con i dipendenti ricorda che piccolo purtroppo significa fragile piccolo non è sempre bello piccolo è fragile grande invece è resistente robusto antifragile se la volessimo dire alla Nassim Taleb autore del quale ti consiglio di recuperare tutti i libri perché sono davvero illuminanti non compiere l'errore di pensare che tu non possa diventare grande o che tu debba per forza diventare una catena con centinaia di punti vendita perché non c'è cosa più lontana dal vero non voglio dirti di diventare una catena non voglio dirti di duplicare il tuo locale voglio dirti di combattere il nanismo imprenditoriale con le armi che tu hai a disposizione quindi qual è la soluzione al nanismo imprenditoriale voglio per caso dire che tutti i ristoranti italiani devono diventare una catena con dieci punti vendita con cento punti vendita e un piano industriale un piano di espansione internazionale no assolutamente no 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 e no il nanismo imprenditoriale non si combatte per forza di cosa facendo delle catene o prendendo tutto il mondo o conquistando la luna mari e monti il nanismo imprenditoriale si combatte iniziando a diventare grandi strutturandosi e ponendo a terra basi solide e consolidate diventare grande espandersi non vuol dire soltanto fare una catena ma significa prendere la tua attività strutturarla consolidarla mettere dei punti fermi mettere delle pedine mettere delle risorse ferme nei punti chiave e fare sì di dargli un futuro che guardi lontano nel tempo quindi per riassumere qual è l'antidoto per il nanismo imprenditoriale nella ristorazione ti do tre punti su cui riflettere su cui lavorare il primo punto è che devi pensare in grande basta mentalità piccole basta mentalità ristrette ci si può arricchire con un ristorante anche se è uno solo si può diventare grandi ci si può strutturare con un ristorante punto numero due come ti anticipavo devi strutturarti devi iniziare a inserire dei manager all'interno della tua attività che prendano decisione al posto tuo e che ti aiutino nella direzione e nella gestione della tua attività punto numero tre visto che i costi aumenteranno e stanno aumentando tutt'oggi lo sai per coprire questi costi devi fare marketing perché il marketing ti serve per acquisire clienti e ti serve per acquisire più clienti di quelli che puoi servire e puoi riempire il tuo locale grazie ad esso il marketing ti serve a fatturare a generare volumi che ti dà la liquidità per strutturarti e quindi per darti la possibilità di pensare in grande ti anticipo che avremo modo di approfondire questa tematica importantissima del tema del piano di espansione della strutturazione di come si diventa grandi nel campo della ristorazione in un corso nuovo di pacca che stiamo tirando fuori in casa ristoratore top in questi giorni mi sto dedicando anime corpo alla redazione della didattica al coinvolgimento di ospiti di casi studio che tratteremo appunto in un nuovo corso in casa ristoratore top che tratterà la tematica del come si diventa grandi nel campo della ristorazione non voglio anticiparti niente ma rimani connesso su questi canali perché ne vedrai davvero delle belle te lo posso garantire prima dei saluti ti ricordo due cose come al solito la prima è di condividere radio ristorazione con i tuoi colleghi collaboratori e con chiunque possa usufruirne la seconda cosa è che se hai voglia di seguirci fuori dal podcast hai due modi il primo è di cercarci su facebook ristoratore top il gruppo siamo noi la seconda è andare sul sito www.ristoratore top.com e magari scaricarti anche il caso di studio gratuito basta che inserisci le tue email dei tuoi contatti e te li invieremo in maniera totalmente gratuita noi come al solito ci sentiamo nella prossima puntata di radio ristorazione con l'augurio che tu possa diventare grande strutturato e forte al solito dai cazzo radio ristorazione radio ristorazione radio ristorazione radio ristorazione